E' il bambino che sono avanzato, ma non li lascia a perdere! Per solito motivo non ci vogliono fare la voglia, e noi vogliamo lavorare. Che cosa significa con te andare via da solo un senso? E' la similità, abbiamo una famiglia, abbiamo tutti i bambini, abbiamo tutti i bambini, abbiamo tutti i bambini, abbiamo tutti i bambini, ci hanno fatto stare vent'anni, Dicono che rovinate la macchina, dicono sempre il decoro, il solito discorso è del decoro perché è della barbara. Sono un nemarcinato, sto stufando, anche perché ho famiglia, non so che giustificare con i miei figli. Che lavoro fai papà? Centurione? Mia figlia un po' di giorni fa è stata Teresa in classe, e sono dovuto andare via a scuola, a scuola, a prendere, a tranquillizzare. E io a un bambino gli avevo detto, tuo padre è un bandito, tuo padre non sta nelle rapole e truffalo è stato. Allora, purtroppo non è stata mai potuta fare per le persone che si comportano male, e non stava a noi allontanare queste persone perché non ho i poteri per togliere queste persone dalle piazze. Già abbiamo parlato con questo, con il vice sindaco, con l'assessore del commercio, per parlare di tanto queste cose, ma non sta a me personalmente.